Vincenzo De Luca in tour sabato tra Golfo di Policasso e Vallo di Diano per parlare del nuovo piano ospedaliero e presentare le novità introdotte con particolare riferimento all'indicazione come idea di primo livello per gli ospedali di Sapri e Polla. Il presidente della regione Campania sabato prossimo 2 febbraio arriverà nella mattinata a Sapri per la presentazione del libro di Franco Maldonado alla rivolta di Sapri in programma presso il Cineteatro Ferrari alle ore 9.30. Dopo l'evento culturale il governatore intorno alle ore 12 visiterà l'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Una visita attesa dopo le polemiche con i botte risposta tra lo stesso De Luca e i referenti del Movimento 5 Stelle e successivamente alla pubblicazione del piano ospedaliero per le critiche per un possibile depotenziamento di alcuni servizi come gastroenterologia che pare dovrebbe diventare unità ambulatoriale. Sarà quindi occasione anche per un confronto ed un chiarimento in merito al futuro dell'ospedale di Sapri vista la nuova classificazione di idea di primo livello ed in attesa della conferma del mantenimento del punto nascita che al momento resta operativo grazie alla decisione assunta dal commissario straordinario dell'Asla di Salerno Mario Iervolino che ha confermato l'operatività dei centri di Polla e Sapri oltre il termine previsto dal decreto dirigenziale del commissario per la sanità della regione Campania in vista del parere che entro giugno dovrebbe arrivare da parte del comitato per corso nascite nazionali. Nel pomeriggio il presidente De Luca arriverà a Polla per incontrare la comunità valdianese presso il centro sociale Don Bosco alle ore 16. Anche in questo caso tema in primo piano il servizio sanitario nel Vallo di Diano ed il futuro dell'ospedale Luigi Curto di Polla dopo la nuova classificazione inserita nel piano ospedaliero individuato come idea di primo livello. Secondo quanto emerge la visita del presidente De Luca nel Vallo di Diano sarà anche occasione per una campagna elettorale in vista delle prossime elezioni provinciali in programma domenica 3 febbraio e che vedrà consiglieri e sindaci chiamati a votare per eleggere i rappresentanti all'interno del Consiglio provinciale. Pare inoltre che il governatore della regione Campania possa anche approfondire la situazione in merito alle prossime elezioni comunali in programma nei comuni di Sala Consilina, San Pietro Altanagro, San Rufo, Caggiano, Casalbuono, Auletta e Salvitelle.